Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su GTA Online nel diciannovesimo episodio delle gare bastarde Ragazzi siamo arrivati al diciannovesimo e il prossimo sarà il ventesimo Cercheremo di fare qualcosa di speciale nel ventesimo episodio Visto che c'è lo Zero Conoce Simux, Cattivic e Lorenzo Saluta Simux Bella a tutti raga Gli altri hanno il microfono scarico ma li salutiamo ovviamente E poi sono entrate anche altre persone che c'erano in sessione Quindi ragazzi direi che possiamo partire ecco da solo E ci vediamo nella gara Ok ragazzi eccoci nella gara Inizia ovviamente il curo di Claxon Simux io e te commenteremo questa partita giusto? Eh sì Spero di non avere la sfiga Già le rampe Già le rampe ragazzi Grazie Alex della sfiga Di niente E io come sempre signore e signori sono a culo Ecco Ragazzi si inizia già con le rampe mostruose Sono al primo posto Maledetto Bastardo Bastardo Dove si va? Dove cacca si va? Ecco Ho fatto un giusto per niente Vabbè Simux dove sei? Eh ultimo posto Vai mica rampa No Sì Ho preso il checkpoint Concentrazione Simux concentrazione 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 Mi sono incastrato da qualche parte e sono morto Dove cacchio si va? Oddio Che vuoi? Uh Da dentro era Dai Dai che dobbiamo raggiungere Cattivic Quel bastardone No sto scherzando Ti voglio bene Cattivic Cattivic ti vogliamo bene Ti vogliamo benissimo Sto scherzando Cattivic ovviamente Uh dov'è adesso che si va? Ah ok Giù 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 Ragazzi Questa gara mi piace Cattivic va più sparato che mai Perché si è fermato? Non lo so Non lo so perché Cattivic si è fermato No 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 Ok Sono ancora quarto ragazzi Secondo giro Secondo giro Sì Non è molto difficile È solo diciamo Bisogna avere precisione nel fare le ramp Se no te ne vai giù direttamente Sì esatto Però comunque è stata fatta bene come gara Cioè non ci sono problemi di spawn Come l'altra volta Simux Ricordi Nell'ultimo episodio Lo spawn era impossibile in quel punto Ma forse ho doppiato qualcuno Sì 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 Madonna che fortuna Dai Simux Io ti volevo secondo Così stappavamo lo spumante E' una prossima gara Sì infatti Non sto avendo la sfiga dell'altra volta Sempre ultimo Dai a sto giro ce la stai facendo Ale Ce la sto facendo stranamente Perché l'altra volta c'era Alex Pesca che ci portava sfiga Allora a questo punto mi sono baccato Ho quasi finito Ho incazzato C'era Ale Pesca che ci portava sfiga Quindi quando verrà sto video si incazzerà No ti voglio bene anche a te e ti saluto E ragazzi concludiamo primo posto Bravo Alex E ragazzi ovviamente ci vediamo nella prossima gara E come al solito non conta vincere primo Comunque conta divertirsi Io l'altra volta Conta divertirti e arrivare al traguardo Sì l'altra volta io ho fatto ultima Ma comunque ci siamo divertiti a sclerare Perché gli spawni erano bruttissimi Quindi direi che Ci vediamo alla prossima gara ragazzi Ok ragazzi ci siamo nella seconda gara Sono entrati i membri della Q che si erano prima Adesso non entra più nessuno Non so perché E ragazzi vi faccio vedere Sta gara è qualcosa di impossibile È anche È tre chilometri lunga Però si parte dalla Mates Bank Un vecchio ricordo di SkyWheels Non mi piace Non ti piace Quindi Timux Io twitto ragazzi Io twitto Un pronostico per la prossima gara Che arrivo ultimo No bastardo Quindi ragazzi ci vediamo nella gara Ragazzi ed eccoci nella gara Non so cosa ci aspetta Timux Ed ecco la banda dei funerali Ok Di funerali Oddio 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 Sivux Cos'è sta roba Già l'inizio non mi piace Già l'inizio non mi piace Non partite al razzo Che qua ve ne andate giù Ecco Oh cavolo che parte al razzo Oddio qua può scoppiare tutto È infatti per quello Dai Sì Sì Madonna che fortuna Oh 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 ecco Muoco No Aspetta qua mi devo addrizzare Ragazzi lo sapevo che sta gara doveva essere di quelle proprio difficili Dai che prende il checkpoint Ecco Adesso iniziano i problemi qua Timux Uh oh 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 Ecco dai Ecco Questa una scena impossibile Dai Lorenzo Cocco si è squattarellato Perché c'è la radio? Ogni volta che muoio mi accende la radio Ma perché? Ma anche a me la stessa cosa Eh, però non sa che il copyright mi fa le pippe, capito? Dai Ho preso il checkpoint Sì Ci posso credere Ah, Cattivic Lui bastardone è sempre primo Ok, dai, dai, dai Forse arriva il primo checkpoint Ragazzi ce l'ho fatta, primo checkpoint 3 Dai ragazzi, stiamo scendendo Boom, ok Cioè, Cattivic sta con La dinka enduro, se non mi sbaglio Forse Cosa con quella, bastardo? Come fa, cioè Eh, vabbè, sono caduto storso Sono caduto storso, non ho capito Sì, è meglio che ci riadrizziamo Io ho paura ancora di esplodere Qua c'è il container qua con il gas dentro Ragazzi, questo è lo spigolo dell'affare Mi sono suicidato Buono, faremo Simux arrosto Sì, è proprio lo spigolo Sì, vabbè Uh, dentro, che fortuna Mamma mia, mamma mia L'infarto Sì, è un po' l'ha bloccato qui ragazzi Incredibile Davvero Dai Dai Ragazzi, non ce la farò mai No, dai, non dire così Perfetto I pronostici di Simux si avverano Meno male che non hai detto niente su di me Alex Alex, perderai Ecco, quindi adesso la sfiga in noi Allora Boom Dai ragazzi che sta andando piuttosto bene Sì, vorrei riuscire a prendere quel checkpoint in una cotta sola Dai che sta andando bene Dai Boom Ok Ragazzi, vi metterò forse i link in descrizione perché queste gare le ho salvate ieri Mi dovrebbero uscire Allora, mi istica, qua è difficile Aspetta che c'è il muretto Dai, il muretto Quando c'è il muretto più alto È sempre impossibile saltare Dai Dai Se muoio Ecco Dai che sono quasi a terra Dai, 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 dai Morto Dai, sono morto Non ci posso credere Ecco, mi sa che te l'ho mandata Alex Ma forse sì Simux, quindi ti prenderò a botte quando ti incontrerò in futuro Ti voglio bene Sì Dai Dai, dai, dai Ma Cattivic non è riuscito ancora a scendere? Dai, sì, sì Ma io sono ancora No Ragazzi Madonna mia che brutta caduta Non ci credo Allora ragazzi, qua per superare questa rampa Siccome devo arrivare sull'altro piano Devo andare veloce Quindi speriamo Cariciamo la moto Via Vai, vai, vai Dai, che ce la facciamo? Checkpoint preso E sono andato a morire Sei fatta? Dai che mo' arriva Cattivic Ragazzi, sto cattivicando sul pezzo io Non sto facendo nient'altro No, dai Simux, ce la devesti fare Sì, io ce l'ho fatta Ehm, non c'è te stare va No Dai Sì che mia vuole Io sono a terra, sulla strada, Simux Eh tu, io sono ancora qua su in cima Voi state volando Oddio Come faccio ad arrivare là sopra mo? Dai Sì, 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 sì Maddò che fortuna No, vabbè, Simux C'è una scena di una rampa Uh, uh, uh Zitto, 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 zitto Ce l'ho fatta Oh Grande Dove stai adesso? Eh Eh Ancora in cima Ancora in cima Io ho quasi concluso C'è un punto a terra Che devi andare scappando con la moto Che devi andare Salire su un palazzo praticamente Con la rampa Ah, capito Ragazzi, non so quanto manca Per concludere Uh Migliore, te lo dico io Aspetta che vi vedo No, non mi carica le rampe Io, ragazzi Da premettere che non ho mai fatto questa gara E non è che ero già preparato Oh, io ho tagliato tutto Raga, vedo il traguardo Ecco, il traguardo sul palazzo Ti pareva, ti pareva Ti pareva, lo sapevo io Ah, di nuovo la stessa rampa Da, che sfiga Dai Forse ce la faccio? Sì, ce la faccio Concludiamo in prima posizione, ragazzi Impressionante Guarda, ti guarda il mio spettacolo adesso se vuoi Sì, ma mi vedo come andate voi Quindi, ragazzi Per queste gare Bastarde, è davvero tutto L'hanno concluso in prima Stranamente Visto che l'altra volta c'era la sfiga Aspetta che vediamo Simux Che cade giù Mannaglia Ecco Quindi Simux Se vuoi salutare Guarda, ci vediamo tutti quanti alla prossima E vi prometto che Minecraft sarà A più presto visibile Sì, ragazzi Un episodio proprio micidiale Stiamo preparando E continua a volare, ragazzi Sì Quindi, ragazzi Salutiamo anche Cattivic e Lorenzo Cocco Che adesso non hanno il microfono acceso E arriviamo magari a 35 mi piace Per questo video Iscrivetevi al canale Lasciate un like alla pagina di Facebook Condividete il video sui vari social network Da Alex Z è davvero tutto Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi Bella Ciao 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 Grazie per la visione!